Buonasera, ben arrivati e ben trovati. Buonasera, ben arrivati e ben trovati. Non avete senz'altro notato tante nuove facce, questo l'hanno visto gli assistiti che sono passati poi a voi. Col problema però che l'ASL ha fatto così, c'è un intoppo, una sorta di collo di bottiglia. Lo abbiamo raccontato tante volte. Dottore, ce lo riassuma lei in poche parole. Allora, in poche parole, diciamo ormai è un anno che questa situazione si trascina perché il termine esatto si trascina. Abbiamo iniziato più o meno da maggio o giro dell'anno scorso in cui l'ASL ha deciso di bloccare questi famosi subentri. Spieghiamolo che cos'è un subentro. Il subentro è una cosa in realtà molto semplice. Un medico di famiglia che è all'interno di un nucleo di cure primarie, che va in pensione, viene sostituito da un altro collega che praticamente prende il suo posto, prende la sua indennità e poi dopo si trasferisce lì nel nucleo a fare i suoi turni, a coprire il famoso H12 di assistenza al paziente. H12 che ricordiamo è medico, infermiere ed amministrativo. Poi parleremo nel dettaglio anche del servizio che offre il centro di riferimento. Per fare un riassunto, quindi diciamo il medico che va in quiescenza viene sostituito dal giovane collega che entra al suo posto e comincia a fare per l'appunto i suoi turni. Diciamo che è un annetto appunto che l'ASL ha bloccato questi subentri senza apparente motivo per il semplice fatto che a chi ha fatto la domanda non gli è stata data nemmeno risposta. Non è stato detto no perché, quindi diciamo noi fondamentalmente come dissi già l'altra volta siamo in questa situazione. Quindi non c'è stata alcuna motivazione, mancanza di fondi o no? No, 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 perché poi dopo diciamo la situazione è evoluta nel tempo, quindi ci sono stati una serie di incontri tra le sigle sindacali e appunto l'azienda. C'è stato qualche piccolo reintegro sparso per l'Aquila, non si capisce con quale motivo. Sparso che significa? Ci sono stati dei trattamenti diversi, alcuni è stato reintegrato, altri no. Sì, ci sono stati alcuni reintegri ma in realtà non capiamo qual è la modalità, però sono stati fatti. Figli e figliastri? No. Non lo so. Non lo so. No, non mi azzardo. Non sarebbe una modalità, non è che glielo voglio far dire. Non mi azzardo a questo, però non sappiamo la motivazione di questo tipo. Però voglio dire, nonostante anche le sollecitazioni e poi nel corso dell'anno è intervenuto anche il sindacato, la FI, MGG, siete intervenuti in tanti modi, poi ci sono state una serie anche di proteste, scenate, esattamente, eccetera. La risposta sostanziale qual è stata? Il tutto è passato poi dopo a livello regionale, perché era appunto l'ASL, come dire, siamo passati a trattare a livello regionale, la regione a un certo punto inspiegabilmente ha deciso di reintegrare solamente i nuclei di cure primarie che andassero sotto i quattro medici, quindi il numero minimo di assistenza. Però ho portato un po' di numeri per cercare di capire la portata del problema. Non è stata percepita, secondo lei? Secondo me no, secondo me no, perché la portata, cioè capire la grandezza del problema, perché il problema diventerebbe grande. Cioè, oggi lasciare un nucleo di cure primarie con soli quattro medici significa che l'altra parte di popolazione non ha assistenza H12, cioè significa a quel punto effettuare una diversificazione di assistenza al paziente, perché il mio paziente non ha garantito questo tipo di assistenza, un altro paziente sì, quindi non c'è uguaglianza d'assistenza, che è un diritto, è una cosa fondamentale. Questo passaggio, faccio una breve interruzione, a livello economico, quanto costerebbe, quanti soldi deve stanziare? Guardi, si parla più o meno annualmente, per noi 6-7 medici, siamo diventati 8, perché un'altra collega ha fatto la richiesta di subentro questo mese, si agirebbe intorno ai 100 mila euro l'anno, per tutti, ok? Quindi non parliamo di grosse. Avete fatto le busche anche al bilancio dell'Asda? Sì, perché poi a un certo punto ci siamo posti noi il problema, perché ripeto non c'è stata data risposta, ci siamo posti noi il problema, forse ci sarà un problema di soldi, un problema di bilancio, un problema di bilancio non c'è, cioè stiamo aspettando comunque risposte ufficiali, perché abbiamo richiesto il bilancio ormai da una quindicina di giorni alla Asl, e quindi stiamo cercando di avere il bilancio appunto per cercare di capire quale possa essere il problema. Quindi non avere avuto il disco verde sul subentro significa che magari voi state là, che non ci potreste neanche stare? Sì, cioè noi là dentro effettivamente non ci potremmo stare, noi lì siamo come dire... Ospiti. Ospiti, perché comunque ringraziamo comunque i colleghi che ci stanno ospitando all'interno, perché ovviamente sono delle strutture che hanno dei costi, quindi sono delle strutture che devono essere mantenute, perché ricordiamo che è tutto a carico del medico, cioè ci viene data un'indennità sicuramente, però questa indennità va comunque ricalcolata all'interno delle strutture, cioè bisogna pagare la struttura, bisogna pagare il fitto, bisogna pagare la corrente, la luce, bisogna pagare gli impiegati, le infermiere, quindi comunque è una struttura che va mantenuta in piedi, e quindi queste indennità... Siete un po' abusivi, ecco, io uso questo brutto termine, però per... E perché fino ad adesso il problema non è, il vero problema non è venuto fuori? Il sistema non crolla, perché oggi noi siamo all'interno dei nuclei di cure primarie, quindi effettuiamo il nostro lavoro, e quindi la popolazione non percepisce il disagio, perché oggi come oggi, se noi, sette medici, siamo sei più una da Vezzano, decidiamo di uscire fuori del nucleo di cure primarie, cosa che prima o poi accadrà, perché comunque parliamo di un anno... Quindi svolgendo soltanto gli all'ambulatorio classico, quegli orari... Si torna a vent'anni fa, si torna a vent'anni fa, la reperibilità del medico durante l'attività di ambulatorio, perché ricordiamo che la reperibilità di un medico di base non è una reperibilità H12, ok? È una reperibilità durante l'attività di ambulatorio, poi ovviamente ognuno di noi decide di attuare questo tipo di reperibilità... Coscientemente... Coscientemente nell'arco della giornata, però capisce benissimo che se io ho finito ambulatorio, e poi dopo mi chiama un paziente per una ricetta, c'è a quel punto l'impossibilità di poter emettere quella ricetta, perché comunque non ho il computer a casa, quindi il problema tra virgolette si pone... Però questo lo garantisce il nucleo... Lo garantisce il nucleo di cure primarie, no? Cioè il sostituto che magari si... Nel medico dell'H12 che è nel nucleo di cure primarie, però se oggi domani esco dal nucleo di cure primarie, e il mio paziente non può più soffrire, ma questa della telefonata e della ricetta è la cosa più semplice. Parliamo comunque di persone magari che hanno bisogno dell'infermiere, rimozioni punti, terapia intramuscolo, terapia salvavita fatta... Lei mi stava dicendo di numeri importanti anche per capire la portata del problema. Partendo dal presupposto che noi abbiamo mensilmente un numero di accessi, quindi compreso, parliamo di accessi però non di telefonate, di accessi proprio fisicamente al nucleo di cure primarie, che si aggirano intorno ai 4.000 accessi al mese. Parliamo del nucleo dove sono ubicato io, al nucleo San Salvatore, che è il nucleo più grande. Attico all'ospedale San Salvatore, con quanti medici? Sono all'interno 12 e ci siamo noi due nel limbo, quindi parliamo di accessi di circa 4.000 accessi al mese. Di cui di visite, parliamo, cioè si aggirano numeri che vanno dalle 1.200 visite mensili, fino ad arrivare a 1.300, io qua ho tutti i numeri, 1.400 visite mensili, con accessi che vanno dai 4.000 ai 2.000, 3.000, ovviamente accessi che si sono ridotti negli anni, nel 2020-2021 col Covid, ma che stanno aumentando. Nel 2023 gennaio 3.700 accessi, con 945 visite, e andando avanti ai 3.700, 845 del mese di aprile. Quindi forse non ci si rende conto di quello che fanno queste strutture per l'assistenza. Quindi si tratterebbe di tornare indietro di 15 anni fa. Sicuramente queste strutture, a mio avviso e a mio parere, devono essere sicuramente migliorate, perché tutto può essere migliorato. Cioè nel senso, sono delle strutture che possono essere sfruttate al meglio. Noi parliamo del nostro nucleo di cuore primaria, ad ottobre, ottobre o novembre del 2022, abbiamo fatto una giornata di campagna vaccinale, aperta alla popolazione ovviamente del nucleo, perché non possiamo vaccinare altre persone. Abbiamo raccolto più di 4.000 vaccinazioni, e abbiamo coinvolto anche la prevenzione per la vaccinazione covid. Vabbè, quindi un servizio a tutto tondo, quella che abbiamo visto anche con il servizio infermieristico. Sì, ritornando alla trattativa, la Regione aveva deciso poi una serie di colloqui che ci sono stati tra le sigle sindacali e la Regione, si è riusciti di nuovo a far ritornare la Regione sui propri passi, quindi a dire va bene, effettuate questi reintegri, e ha dato di nuovo potere alla ASL di poterli fare. Ci sono stati una serie di incontri con la dirigenza della ASL, e una quindicina, 15-20 giorni fa, garantiamo prima dell'attacco hacker, c'è stata una volontà da parte della ASL di impegnarsi ad effettuare questi subentri, perché ci sono stati fatti dei controlli interni con i vari bilanci. Che siete finiti anche in Commissione come tema di discussione. Esattamente, grazie appunto alla Commissione si è riusciti a superare il problema a livello regionale. Anche perché mi sembra che le altre ASL hanno temperato. Sì, le altre ASL si sono solamente fermate nel momento in cui c'è stato quel blocco della Regione che è durato un mesetto. Una volta che la Regione ha capito l'entità del problema, numeri alla mano, perché a quel punto hanno capito qual è stato il problema, ritornati sui loro passi, le ASL, principalmente Tero, ma anche le altre, hanno ricominciato ad effettuare questi subentri. Ecco, io ho anche cercato di capire un po' le motivazioni, quantomeno se fosse un mero calcolo burocratico, ha fatto intendere anche Romano, che era un'operazione anche azzardata. Di azzardato non c'è praticamente nulla. Di azzardato. La serie non voglio finire alla Corte dei Conti. Ma non c'è da finire alla Corte dei Conti, perché il bilancio è chiaro. Nel senso stesso lui ha fatto dei controlli, lui intende la direzione strategica, ha fatto dei controlli sui bilanci, e il senso lui si è sbilanciato dicendo va bene, faremo questi subentri. Ovviamente noi parliamo di subentri che riguardano l'anno scorso, perché stiamo andando ovviamente verso il ricontrattare il nuovo contratto. Quindi ovviamente queste strutture poi dovranno essere rivisitate, dovranno essere, come dicevo, migliorate. E quindi ovviamente andando avanti questi subentri, come dire, dovranno anche un attimo attendere i successivi, quando parliamo di ottobre, novembre, dicembre, perché a gennaio dovrà essere firmato il nuovo contratto. Quanti siete adesso coinvolti? Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Siamo sempre noi che siamo lì. Quindi noi però parliamo di subentri che riguardano l'anno scorso. Quindi anche la Regione... Un anno di ritardo. Eh sì, anche la Regione aveva detto sì, ok, sistemiamo adesso il pregresso e poi dopo dal nuovo vediamo un attimo di, come dire, di risistemare la situazione. Ma secondo lei l'intoppo, in questo caso, dove sta? È una questione politica a questo punto? Guardi, io non ne ho la più pallida idea. L'idea ve la siete fatta? Noi sì, noi ormai tra noi giovani la chiamiamo la grande presa in giro. Perché ci sentiamo presi in giro? Cioè non si può dire, ok, oggi facciamo le delibere, poi non vengono fatte le delibere, poi richiami, eh ma sa, ma forse qua c'è un problema, eh ma forse sa, qua c'è un altro problema. Quindi ormai noi giovani, noi ragazzi la definiamo la grande presa in giro quando ne parliamo, perché questa è una grandissima presa in giro. Tant'è vero che stiamo valutando, eh, ormai siamo ormai... Cazioni risarcitori? No, no, a parte risarcimento, a noi non interessa il risarcimento. Ok, perché se era una questione di risarcimento ne avremmo parlato un anno fa. Ok, non è una questione di risarcimento. Abbiamo anche fatto sapere alla direzione aziendale che a noi il risarcimento non interessa, non interessa riuscire ad effettuare il subentro e riuscire a stare in una struttura con due piedi all'interno di una struttura. Perché oggi io mi trovo in una situazione di disagio, ok, nei confronti anche dei colleghi, degli stessi infermieri e delle segretarie. Perché io sono un ospite lì all'interno e non mi tratto... Certo, quindi utilizza così in maniera... Ok, quindi diciamo non riesco nemmeno a sfruttare, anche volendo fare delle iniziative tipo quella vaccinale bisogna andarci con i piedi di pomme perché ti si può tranquillamente dire sì ho capito, tu sei qui, sei ospite, quindi... C'era, sembrava a un certo punto che la cosa avesse superato un po' lo stallo, no? Poi chiaramente adesso in altre faccende affaccendati tra hacker e cose varie stiamo parlando oramai da due settimane figuriamoci se Romano sta pensando a questo. Ma immagino di no, immagino di no. Però è bene ricordarlo perché comunque questa promessa di delibere è stata fatta ormai 15 giorni fa molto prima dell'attacco hacker. Eh, ma io una cosa che mi chiedo, no? Anche visto che insomma anche le proteste le... Sì. Siete usciti tante volte anche sulla stampa avete raccontato, noi peraltro vi abbiamo seguiti. Sì. È stata la percezione secondo me che non c'è stata così tanto perché? Perché sembra una cosa vostra, no? Li devono essere sistemati e allora una cosa così... Sì, magari sì, la percezione può essere anche quella. Magari vogliono sistemarsi all'interno di strutture. A noi che ci importa? Tanto l'importante è il medico, ci vado lo stesso, mi fa il servizio, se ho bisogno della ricetta me la fa. Sì, no, no, ma siamo d'accordo. Il problema non si riflette su, mi perdoni, su chi ha la sua età, quindi che lei non ha bisogno di me. Ok? Cioè in grosso modo non ha bisogno di me. Noi qua ci riferiamo a persone fragili, a una popolazione di un'età che ha una certa fragilità, che ha necessità di contattarmi a un determinato orario, che ha necessità di avere un'azione infermieristica, quindi che ha necessità di questa struttura, che ha necessità anche di... Perché parliamoci chiaro, anche chi lavora ormai non ha più il tempo di chiamare il medico quando è all'interno dell'ambulatorio. Magari esce, mi prendo una ricetta, chiamo, mi faccio fare la ricetta, parlando della cosa più semplice. Ok, però il vero bisogno ce l'ha la popolazione fragile e queste strutture sono principalmente per questo tipo di persone. Che poi, visto, diventano il punto di riferimento, quasi in un certo punto di vista. Certo, perché ormai i dipendenti all'interno, come noi medici, conoscono tutti. Quindi arriva se è creato anche un rapporto molto amichevole e come dire, ci si sente comunque a casa all'interno di questo. Ripeto, per chi ne ha bisogno, perché queste sono strutture di chi ne ha bisogno, non di chi ha 40. Senti, dottore, di politici chi ci ha messo la faccia? Perché in genere, quando si tratta delle battaglie, chiaramente arrivano comparse, controcomparse, chi segue, chi no, chi piace la scuola. Guardi, io le parlo proprio sinceramente. A me della questione politica non me ne frega niente. Perché a me non interessa che intervenga un politico, che intervenga l'altro, che non interventa. Io ho interesse che questa situazione venga risolta, o in un modo o nell'altro. Cioè, noi stiamo cercando di far capire all'ASL, alla regione, alla politica, stiamo cercando di farlo capire parlando con vari politici, parlando con persone che chi più, chi meno si sta interessando della situazione, che il problema, il problema grosso, è riferito a questi numeri che noi stiamo facendo. Perché domani, quando questi nuclei verranno meno, o verranno meno, o andranno alla chiusura, perché mano a mano, nell'arco del tempo, ci saranno dei pensionamenti. Questi 4.000 accessi, chi li fa? Certo, non li può fare il pronto soccorso, che per un po' è anche servito per questo. Questi 3.500 visite. Allora, questo problema, secondo me, non è affiorato. Perché noi facciamo un lavoro sul territorio, che è, come dire, un lavoro sotto certi aspetti anche un po' solitario. Solitario però si è trasformato nel tempo, perché grazie a questi nuclei di cure primarie oggi ci troviamo in 10 medici a lavorare insieme, quindi a condividere cartelle, a condividere sotto certi aspetti anche determinati pazienti, perché comunque ogni medico, come dire, ha una sorta di specializzazione, chiamiamola così, ok? Quindi ci si è finiti a lavorare insieme. Quindi, venendo meno tutti questi accessi, queste persone dove vanno? Se vogliamo fare un minimo di statistica, no? Di 3.387 accessi, anzi, prendiamo 1.230 visite in un mese, ok? Di queste 1.230 visite in un mese vogliamo fare la metà, vogliamo fare un terzo, 600, 500 persone dove vanno? Certo. Dove vanno? Al pronto soccorso. Al pronto soccorso, dicevo, no? Ok. Ancora di salvezza. Però qui, attenzione, parliamo del nucleo di cure primarie San Salvatore. Sì, 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 sì. Ok, perché sull'Aquila sono coperte circa 60.000 persone con questo tipo di servizio. Certo, ce n'è un altro al Torrione, mi sembra, e ce n'è un terzo forse. Sì, ce ne sono diversi, un altro si trova a Colle Maggio, due sulle periferie, quindi Monte Reale e San Demetrio. Quindi c'è una buona fetta di copertura. Di copertura. Ripeto, la grande presa in giro non finisce qui. Anche perché noi, come giovani, siamo arrivati a un punto di... cioè, nel senso, siamo stanchi, come immagino siate stanchi anche voi. No, no, stanchi. È curioso vedere come si trascina questa situazione, quando sembrava che magari si potesse sbloccare. Di dieci giorni in dieci giorni. Noi andiamo avanti di dieci giorni in dieci giorni. Che poi è una firma, è una delibera, no? È un atto. Ma sì, è una delibera, è un copio in colla delle vecchie delibere che sono state fatte 15 giorni dopo la mia richiesta. Magari ci sta ascoltando, Romano, non lo so. Eh, non lo so, però non lo so. O poi, magari ci sta ascoltando anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, perché è anche il presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci. Certo, certo. No, no, per carità, noi siamo aperti a parlare con tutti, ma noi intendono i giovani medici, non le sigle sindacali, ok? Cioè, nel senso, sono qui principalmente come giovane medico. Sì, però lei sa anche il giovane medico, però non è, insomma, non è che c'è la nella naso, sa che in ogni caso è la politica che decide. È la politica che decide, no? Una grossa mano sicuramente c'è la da dire. Ma Biondi potrebbe fare qualcosa come... Beh, immagino di sì, immagino di sì, immagino di sì. Però, ripeto... Voi con Biondi non vi siete mai interfacciati? No, no, no. Perché l'ho visto silente su questa cosa, quindi volevo capire... No, non abbiamo avuto ancora modo di riuscire ad indifarciarci, e spero ci riusciremo, insomma. Magari ci può dare una mano con questa... No, io figlio. No, con questa... No, magari ci... Con questa intervista, con questa chiacchierata. Con questa trasmissione, ci sta sentendo. Oppure il segretario che è Vito Albano, insomma, che si fa largo tra le varie commissioni e tutto quanto. Sì, 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 sì. A cercare... Poi lui, politico, è nato e oltre a medico, chiaramente, quindi a cercare di capire... Cioè, l'impegno ce lo sta mettendo anche lui. Le sigle sindacali si stanno impegnando nel cercare di risolvere questa grande pesa in giro. I pazienti la sentono questa cosa? Come no. Questa scuola di l'amore? Come no, come no. Infatti molto spesso chiedono... Ma ripeto, non tutti, perché magari la metà dei miei pazienti non sa nemmeno che esiste questa struttura, perché fortunatamente non hanno bisogno di me. Ok? Oppure quando hanno bisogno di me mi chiamano e magari vengono da una parte o dall'altra. Chi soffre di questa situazione sono persone che hanno bisogno. Cioè, persone che... Magari lei dice, ma la persona che ha bisogno come fa a vedere il nucleo di cure primaria? Ci viene il figlio. Ci viene il nipote. Ok? Viene a parlare magari con un medico che sta lì. Viene a chiedere informazioni. Prende le ricette. Cioè, nel senso, non bisogna chiudere il discorso a dire la persona fragile come fa. La persona fragile si muove in tanti modi. Certo. Oltre che naturalmente la parte domiciliare che ce ne occupiamo noi. però c'è tutta una struttura, c'è tutto un sistema, c'è la burocrazia. Cioè, non ci dimentichiamo della grossa burocrazia che c'è. Certo. Quindi... Un momento così delicato. Cioè, avviamo verso la conclusione, dottor Belmonte. Un momento così delicato come questo, con le becchie del lageraggio, quindi, immaginiamo... Voi come intendete muovermi adesso? Allora, noi come singoli medici... Cioè, azioni legali personali, quelle le potete fare? Sì, prenderemo... Cioè, lei si prende l'avvocato e va là... Sì, perché è passato... Ultima spiaggia? A me e a noi personalmente dispiace tanto, perché comunque dovremmo lavorare con questa azienda per 30 anni, quindi non è bello iniziare un... un apporto in questo mondo. Voglio dire, magari vi accodate alla, come dire, al fiume risarcitorio, alla class action che è prevista nei confronti dell'altro. Questo non so che succederà, perché dovremmo parlare ovviamente con l'avvocato e ci indicherà lui quella che è la situazione. Ovviamente, se la situazione si dovesse sbloccare, rientreremo di quelle che saranno le nostre richieste, questo è poco ma sicuro. Quindi andremo sicuramente per altre vie, perché ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Anche il sindacato ha già chiesto, anzi appunto come dicevo prima... Il sindacato è soltanto la CGL che si è, diciamo... Sì, attualmente, attualmente sì. Forse magari questa cosa è stata giudicata anche un po' politica. Anche un po' politica, questo potrebbe essere, però da quello non ne sono sicuro, però credo che gli iscritti all'interno dei nuclei siano tutti quanti della CGL. Però non voglio sbagliarmi su queste cose. E poi, insomma, quando ci sono i timbri, allora uno pensa magari che vogliono questi, ma non è così, non va bene. Quindi ve le siete sentite pur dire queste cose? Come no, sicuramente. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco, quindi diciamo... Quindi il sindacato ha richiesto, come dicevo, i sindacati hanno richiesto i bilanci per cercare di capire effettivamente, magari a bilancio ricevuto, se forse ci mandano il bilancio, riusciamo a capire, leggendo il bilancio, capiamo, diciamo, vabbè, effettivamente i fondi non ci sono, va bene, amen. Però il discorso è che ha più richieste i bilanci che ci sono stati mai. Ma da quello che ricordo, però chiudiamolo, nell'ultima commissione, quella in cui era presente, mi sembra, anche Romano, in commissione del gioco, lui lì si impegnò, anche davanti a... Certo. Si impegnò, c'era anche di Giosia, il direttore generale dell'ASL di Teramo, e diceva, ma com'è possibile una cosa del genere? Come no? Come no? Si, 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 si. Quindi che ne so, è stata una scenetta, una cosa di faccia. Ma io spero di no, spero che il direttore si è impegnato con... No, perché ci fu proprio un impegno preciso, e quanto è passato da allora? Beh, penso tre settimane, un mese. Un mese, quindi poi non è successo, magari adesso con la cosa della... Dell'hacker, magari sono state fatte le delibere, non sono state pubblicate, però francamente non crediamo. Si sarà perso qualcosa, non lo so. Eh, può darsi pure che sono state fatte, non sono state... Senta, per chiudere veramente, la questione del hackeraggio, a voi medici non è interessato, perché voi medici famiglie avete un altro sistema. No, utilizziamo altri server, quindi noi siamo operativi, riusciamo a fare ciò che dobbiamo. E siete protetti, se no adesso ho le domande informali, lo fate il backup. Spero di sì, abbiamo chiamato il nostro tecnico, e ha detto che è tutto tranquillo, tutto a posto, e di stare seri. Eh, quindi insomma, la situazione preoccupa questi precedenti. Eh, beh sì, sì, come diciamo a parte tutta la situazione... Quanti assistiti ha lei, dottor Belmonte? 1500 e qualcosa, 1500. Quindi è un numero... Ha raccolto l'eredità di medici storici della... Di medici, sì, sì, di un medico principalmente, e poi di un altro che è andato via, che mi ha lasciato un po' dei suoi pazienti. Eh, vabbè, questo è anche un lato curioso, no? Deve vedere anche come è l'approccio con il nuovo medico, che è sempre un po' errattile, poi dice, ma... C'è tanta diffidenza all'inizio, perché giustamente... È vero che c'è la diffidenza? Beh, io sfido chiunque avere per vent'anni un medico dove ci vai e dove, come dite, ha visto crescere e poi passare magari ad un altro medico che è anche più giovane, di circa trent'anni in meno, e ritrovarti in una situazione completamente nuova, con nuove regole, con una nuova gestione, con nuove modalità, con nuovi approcci. E come si acquista la fiducia? Che azzecchina di agnosi? Eh sì, facendo capire che ne capisci. Che ne capisci, certo. Come dire, il sapere e nobilità ti, come dire, ti fanno... Cioè, basta far capire alle persone che un minimo... E andare a fare la visita a casa, perché poi gli diano no, ma che non mi vengono a visitare? No, ma anche qui questo è un altro grosso capitolo. La visita domiciliare per i non trasportabili, ok, cioè nel senso la visita domiciliare non è che mi chiama domani Matilde Albani e dice, dottor Belmonte, sono a casa con la febbre, da oggi c'ho il raffreddore e c'ho la febbre a 37 e mezzo, mi viene a visitare. Avendo 1500 persone uno dice, magari inizia a fare la terapia, ok, qualche giorno di terapia. E poi vediamo come va. E poi dopo, se non migliora, a quel punto... E lo voglio ricordare, visto di visite, lei è stato anche un medico usca, quindi sotto Covid questo signore è imbacuccato come una extraterrestre e si è fatto le visite nel periodo quello peggiore, no? È stato un bel periodo, ci ha fatto crescere tanto. E vi ha fatto crescere quando dovete fare le leografie comunali. e la nuova generazione dei medici di medicina generale che sta salendo sull'Aquila e che vengono trattati in questo modo, non credo che sia bene. Ma mia degna, degna conclusione, l'abbiamo lanciato, il sassolino più volte, più che sassolino, la... grazie a voi che siete stati con noi. Una buona serata, arrivederci. a tutti. Grazie a tutti